Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Frenky ed oggi sono qua per questo nuovo video e oggi proviamo ancora una volta Sky Giants Questa fantastica modalità, guardate, io ho il Magenta Team, no! La scorsa volta noi eravamo contro il Magenta Team, però vabbè Dai ragazzi, oggi si inizia subito a bomba con questo nuovo video e vi invito fin da subito a lasciare mi piace e a commentare qua sotto Facendo sapere cosa ne pensate, perché il vostro supporto, le vostre idee incredibili, sono fondamentali per il proseguimento di questo fantastico canale E allora iniziamo subito però, io voglio andare molto spedito, tra l'altro ci sono i secondi di warm up proprio come se fossimo nella MotoGP Prendiamo questi strumenti e noi abbiamo l'armatura di ferro già, e vabbè, voi dite, vabbè, chi se ne frega, invece no, chi se ne frega lo dice a qualcun altro Questi oggetti li possiamo pure rimettere qua perché effettivamente non mi servono molto, quello che invece mi serve è prendere assolutamente questi minerali qua Perché abbiamo il piccone che è di pietra, quindi aspetta, effettivamente il ferro si lo posso prendere, ok, ok, prendiamoci il ferro E poi, 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 e poi Vediamoci qua, altri pezzi di minerali, ma non ho capito quali isole sono tipo tutte stranissime, bello però, bella la struttura lì, eh Molto, molto bella sta mappa, mi piace, mi piace Quanto manca? 20 secondi, 20 secondi non ho fatto niente praticamente, faccio schifo, questo si può rompere, sì Ah, però giustamente qui c'è il gigante, quindi, eh, dobbiamo fare la protezione praticamente, anche se, aspetta un attimo Che cosa è successo? Che cosa è successo? A vero, che ha visto la cosa è stranissima, allora, intanto rompiamo qua sotto Good luck, Frank, grazie, grazie, lo so, viene sempre questo good luck, è un po' per fortuna Rompiamo qui ancora il ferro, intanto lo sapete, la prima fase è un po' di preparazione, ragazzi, in questa modalità Per chi non la conoscesse, è molto semplice, ovviamente ogni team ha questi giganti, noi dobbiamo difenderli O andare ad uccidere gli altri giganti Il problema è che i team sono da due qua, ho scelto la modalità da due, l'altra era da quattro In due c'è più difficoltà, secondo me Allora, in verità assoluta dobbiamo farci un piccone di ferro, il problema è che non riesco a trovare i minerali La cosa non mi sta piacendo molto, ragazzi, no, non mi sta piacendo cos'è qua L'amore, l'amore e la gioia incredibili Allora, prendiamo qua il ferro che non ci dà niente, la labislazzuli Ok, ecco qua invece dei blocchi di ferro Perfe, questo cos'era? Di pietra, simpatico, no? Simpatico che mi lascia merdine Ma tra l'altro scusatemi, c'era il mercanti, mi sono scordato il mercanti Perché è vero, sotto ci sono i soldini Diamond Sword, subito, subitissimamente ce la prendiamo In questo giro voglio andare molto più spedito con gli attacchi Dobbiamo tenere conto anche di queste, cioè delle pozioni Che non sono male Perché ad esempio, cara, Rabbit Power era quello dei salti enormi Questo velocità, rigenerazione, invisibilità non è malaccia Invisibilità non è malaccia E... boh No, scusa, quello? Ma questo è impazzito? No, regalo, ho visto Ce n'è uno qua Ma portacci tua Ma subito? No, vabbè, ma voi non state bene Cioè, tu sei malato Tu sei... no, sì Questa tecnica la conosciamo tutti, eh Cicciopanfranco, ok? Eh? Ma vai a quel paese Ma guarda, t'ammazzo di botte io, eh Mamma mia Bravo, bravo, rompi i blocchi Rompi i blocchi Rompi, rompi, rompi Non puoi venire qua Schifo Boo, vergognati Vabbè, però ci stiamo facendo distrarre Se no me questa potrebbe essere una sua... È una sua distrazione questa Ho visto un nome Vedi? Lo sapevo C'era il suo amichetto stronchio Si chiama stronchio Veramente? Non si può passare qua Seri? Dove... oh, oh Non hai ancora capito Non hai ancora capito contro chi stai combattendo Cicciopanfranco Vabbè, non ho capito L'hai fatto alterare non poco Quindi adesso io vi vado subito ad attaccare Questa partita sarà molto più difficile di quanto pensassi Perché comunque sia... Sono molto più aggressivi qua i giocatori Essendo poi un team da due Eh... le cose non si fanno per niente semplice Attenzione Lui si... Ah, che deficiente È caduto di sotto Ciao, bella Bella per te Ciao, ciao, ciao Ciao, ciao Io adesso rompo qua Ne vado qui E inizia E inizia ad attaccare Oh, mortacci tua sto zombie gigante Ciao, ciao, ciao Inizia a farti un po' di danni, eh Non so se ce ne siamo resi contro lì Ok, ok, ok Scusatemi, scusatemi No, perché non volevo Sinceramente volevo essere un po' più Un po' più amicore Un po' più amicore che voi Un po' più amicore che voi Eh, scusatemi, scusatemi Oddio, no No Oh, no Mi ha ucciso Scusate, ragazzi Scusate Mi è stato un momento di... Oh, oh, il magenta Il magenta Oh, oh, ciccio Dai, no Non è possibile Non è possibile In due Ma che cazzarola fai Tu non sei manco di... Questo Frank Poi... Tra l'altro ti chiami come me Oh, mortacci tua Non me devi copiare il nome Ma guarda un po' Ma guarda questa gentaglia Ma sono almeno... Sono in registrazione Perché non si vede Non so, non so Non so ogni tanto Sono un po' emozionato Non so mai se sta registrando Oppure no Allora C'è un forte assedio in questo momento Tra l'altro noi siamo quelli Con la percentuale più bassa Allora, tu Tu Devi capi... Mia Oggi è una partita molto difficile, ragazzi Eh Oggi è una partita molto difficile Tra l'altro guardate il centro Com'è ben costruito Perché effettivamente c'era C'era la bestia Alla No, allora No, no Ragazzi Ragazzi Ma fai schifo Cioè io c'ho un team Che veramente È degradato Oh, t'ho detto Che non mi devi rompere le palle Mamma mia Guardalo, ragazzi No, ragazzi Siamo al 63% E Non stiamo messi bene No Non stiamo messi bene Devi difendere Che è successo? Ma chi è che lo sta? No Con l'arco Ma puoi fare schifo Tu mi fai... Tu devi... Tu meriti Tu meriti la morte Tu meriti proprio la morte Ma proprio la morte No, guardate Veramente Mi stanno facendo arrabbiare Ragazzi Cioè Non è possibile Ma mo mi fiondo dentro Casa vostra Qua cosa... Dimmi che mi ha dato l'arco Poi vedete a me Queste cose mi fanno incazzare Non poco Mi date l'arco Non le fre... Non puoi andare... Cioè vedi che sei stupido No, vabbè Veramente E viene con me E viene con me E qua abbiamo perso Abbiamo perso perché C'ho uno che è deficiente In squadra Mi fanno incazzare a me In queste cose Perché Veramente C'ho un membro che... Ma vabbè Dai ragazzi No, no Non mi fanno incazzare a me Mi fate incazzare Mamma mia Non si ci molla niente Dai Ma non muore Dai Veramente No ragazzi Che vergogna Che vergogna Ma mi fanno arrabbiare a me In queste cose però Cioè Non è possibile Un team Con un idiota Veramente Perché quando voi fate Questa modalità Questo adesso Vediamola come un consiglio Da dare a voi Che magari ci vorrete giocare A questa modalità O già ci giocare Però io da quel poco Che ho capito Perché alla fine Ci ho fatto una partita D'altra volta E questa qua Però è una di quelle classiche modalità Dove serve il team E se io vado ad attaccare Tu Genial Lloyd Devi startene a difendere Invece no Cosa fa? Vai attacca con me Io non c'ho parole Ragazzi Quando giocate a questa modalità Per favore Fatelo per me Fatelo per il vostro team Ma organizzatevi Ed è per questo motivo Che questa modalità O la faccio nella modalità 4 Oppure da 2 Assieme a qualcuno che conosco Quindi Bisogna un attimino Organizzarsi bene Con queste modalità da team Ma io spero però Che questo video Vi sia piaciuto comunque Fatelo sapere Lasciando un bel commento Qua sotto E anche un bel mi piace Iscrivetevi al canale In caso non siete iscritti E ci vediamo domani Come ogni giorno Alle 17 Con un nuovo video Come sempre Dritto per dritto Allora 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 Allora